Scusi, non la volevo spaventare. Spaventare? A momenti morivo di colpo. L'avevo presa per un fantasma. Ma cosa... Sono i nostri. Già, è vero. È da poco qui? Sì, da questa sera. È stato terribile l'assunto. E altro che... Scusi, ma non parlo mai di guerra il martedì. Oggi è mercoledì. Ah, sì? Neanche il mercoledì. Malaria? No, nervi. Non mi aspettavo di incontrare una donna in un cimitero. Un tenente delle ausiliarie per Giunta. Che cosa fa qui? Dedicavo un po' di tempo a me stessa. È tranquillo qui. specchio per quelli che sono qui sotto. Che tranquillità. Ci conosce qualcuno? Sì, uno. Importante? Molto. È una lunga storia. Credevo che i morti vegliassero sui vivi. E non i vivi... mi scusi. Non importa. E lei chi cercava? Nessuno in particolare. Eravamo tutti nello stesso reparto di sbarco. Vorrei sapere se valeva la pena che ne morissero tanti. È stata una bella vittoria. Già, ho sentito. Ma si dovrebbe almeno morire coi piedi all'asciutto. Che pare? Lei è un uomo strano. Forse per le donne è strano. Venga a bere qualcosa. La ringrazio. Non bevo. E perché? Ah, ho capito. Non beve con me perché hai i calloni da tenente, eh? Per questo e per altro. Vado a riposarsi. Oh, certo, certo. Dimenticavo che siamo nelle retrovie. domani mi dovrò dare una buona ripulita. Un buon sonno le farà passare tutti i pensieri... Grazie, tenente. Ne parlerò al mio confessore.